Ferma condanna della violenza in nome di Dio e volontà di continuare con forza il cammino di condivisione per la pace. Sono questi i sentimenti espressi nei messaggi del Vescovo Domenico e dell'imam di Perugia, Abdelkader, dopo l'attentato di Nizza del 29 ottobre e a pochi giorni dal 34esimo anniversario dello spirito di Assisi. Sul sito diocesiassisi.it è possibile leggere i messaggi di entrambi. Insieme ci impegniamo hanno scritto il Vescovo Domenico e Abdelkader a camminare nella via della pace che esclude ogni violenza e a diffondere la fraternità.